Si parla molto di società patriarcale, di ruolo predominante del maschio nella nostra società e quindi di uno stereotipo che la nostra cultura ci porta dietro e che sarebbe alla base di comportamenti di soprafazione dell'uomo nei confronti della donna. Questo stereotipo andrebbe un po' rivisto, almeno alla luce dei risultati di una ricerca che viene presentata in questi giorni della Fondazione Foresta di Padova, che ha interpellato 4.400 studenti delle scuole superiori padovane dal 2022 al 2024, interrogandoli sul ruolo del padre e della madre nelle loro famiglie. Dovevano rispondere a un questionario che articolava le domande attorno a quattro concetti, a quattro livelli, e cioè se il ruolo era percepito come amichevole, autorevole, indifferente o problematico. Ecco, i risultati sono piuttosto intrecciati e complessi da riferire, però un dato che appare subito messo in evidenza ed è il fatto che l'autorevolezza del padre è percepita soltanto dal 40% dei maschi, meno ancora verso il 30% è qualcosa dalle femmine, però interpellando i figli di coppie separate o divorziate, e uno su cinque dei ragazzi risultava appunto figlio di queste famiglie, è saltato fuori che il dato crolla drasticamente a metà, il dato dell'autorevolezza del padre, fino ad arrivare a sfiorare l'indifferenza. Ora, questa situazione riguarda più i maschi che le femmine, ma soprattutto si inverte nei confronti della madre. I figli delle coppie separate cercano l'autorevolezza nella madre e questo è molto più evidente nei figli maschi che per il 50% dimostrano questo atteggiamento. Allora, la domanda conclusiva è, stiamo passando da una società patriarcale a una società matriarcale? I ricercatori dicono che è presto per dare una interpretazione dei dati in questo senso, però fanno capire che un ribaltamento è in corso.